un saluto a tutti i followers di androidelive.it andiamo a fare la nostra classica foto qui al nostro amico android che è scatto molto veloce questo è il risultato molto bene con insomma questa fotocamera da 4 ultrapixel devo dire che a me onestamente non convince molto la politica di htc però comunque le foto non le fa male io comunque ripeto sempre preferisco un'ottima 12-13 megapixel piuttosto che una 4 ultrapixel andiamo a fare la stessa foto con l'oppo scusate qui avevo il flash attivo non me ne sono accorto non attivo ok scatto altrettanto veloce anche qui e devo dire che onestamente adesso vi metto i due risultati vicini e come potete vedere a mio verso parere quella di oppo n1 è leggermente migliore forse magari dalla videocamera non si vede però a mio verso parere quella di oppo n1 è migliore cioè ha una quantità fotografica maggiore ripeto a me la politica dei 4 ultrapixel di htc 1 max che ha ripreso anche sul nuovo m8 a me onestamente non mi convince molto però insomma le foto io le ho messe anche sul computer non si vedono male però così ad occhio io penso che quella di in questo caso con l'attrice megapixel di di oppo sia leggermente migliore comunque vabbè usciamo dalla fotocamera vi parlo sempre di parte multimediale quindi andiamo a vedere i video su entrambi test video test video vediamo se riesco a farli partire in contemporanea facciamo un bel riprendi su tutte e due pensavo di averli dall'inizio invece sono quasi sincronizzati chiaramente gli dispositivi leggono tutti i tipi di formato certo che però l'audio delle doppie casse v sound qui di dell'htc 1 max fa la differenza qui l'audio esce da qua sotto ok possiamo possiamo uscire chiaramente avete sentito come l'audio qui vabbè l'audio all'inizio non mi era accorto era completamente basso però avete notato come l'audio dell'htc 1 max sovrastava in maniera palese e impressionante quello dell'ho pn1 chiaro le due casse full sound fanno per quanto riguarda l'audio fanno tutta la differenza di questo di questo mondo andiamo facciamo un passo indietro e guardiamo il 700 720p scusate ma ripeto la posizione non è delle migliori per comandare i due dispositivi ok adesso vi faccio sentire la differenza di audio fermo l'htc perché abbiamo il volume al massimo adesso ok ora sentite l'htc 1 max adesso andremo a vedere faremo anche la prova della della musica però insomma devo dire che le casse le casse stereo del 1 max fanno tutta la differenza di questo mondo oggi l'ho po' è leggermente un po' forse la posizione scomoda clicco i soft touch non sono molto reattivi forse devo un reset non lo so oggi l'ho po' è leggermente meno reattivo del solito comunque vabbè passiamo passiamo alla musica ok vediamo se abbiamo subito si entrambi le stesse canzoni allora iniziamo con l'htc 1 max oppone 1 oppone 1 oppone 1 oppone 1 insomma penso che anche un orecchio diciamo meno esperto si accorge che la qualità audio è nettamente ma stranettamente a favore dell'htc 1 max insomma le due casse ripeto fanno tutta la differenza di questo di questo mondo orecchio non 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 Grazie per la visione!